Buongiorno a tutti, io mi chiamo Valentina Mafiotto e lavoro per un'azienda di Torino che si chiama SmartFlow, è un'azienda di consulenza specializzata in privacy e compliance che insieme a Sinestesia, che è un'azienda di Torino specializzata in software, hanno creato la piattaforma per il whistleblowing che adesso vi andrò a raccontare. Prima di raccontarvi la piattaforma e farvela vedere con una demo, avremo strutturato il webinar in questo modo dove vi faccio vedere alcune slide che raccontano un po' il quadro normativo in cui ci troviamo in modo da chiarire subito alcuni dubbi di cui il principale è abbiamo la necessità di farlo, quali sono le aziende che lo devono fare, successivamente vi farò vedere la demo del prodotto, vi faremo poi avere il pricing dedicato che è stato fatto per lo studio per questo webinar, dandovi anche le indicazioni di come poi aderire e poi lasceremo circa un venti minuti per tutte le domande che verranno fuori. Vi chiedo solo la cortesia per le domande di scriverle in chat e poi alla fine del webinar le andremo a leggere una per uno. Io partirei direi con la presentazione se allora mi dovresti autorizzare alla condivisione. Ok, Ambra mi confermi che si sta vedendo tutto, perfetto. Allora oggi parliamo di Smart Leaks. Smart Leaks è il sistema che abbiamo creato per gestire questa nuova necessità che è venuta fuori. È un servizio che fornisce una piattaforma di segnalazione delle illeciti, il famoso whistleblowing. Il whistleblowing arriva in Italia, esiste già per alcune aziende, ad esempio chi ha il modello organizzativo 231 era già obbligato con un pezzettino, mentre adesso il decreto legislativo europeo per poi arrivare, la direttiva europea scusatemi, per poi arrivare al decreto legislativo hanno in qualche modo messo un punto fermo anche nella legislazione italiana per cui alcune aziende, alcune tipologie di aziende devono avere questa tipologia di piattaforma. Vediamo subito le scadenze, è quella che direi in qualche modo interessa noi, è quella del 17-12 che è praticamente dopo domani. Per le società, la macrocatistica è le società che hanno impiegato nell'ultimo anno, perciò nel 2023, tra i 50 e i 249, dai 50 dipendenti in su. Infatti il 15 di luglio scadeva la normativa per le società che hanno più di 249 dipendenti. Nel caso in cui un'azienda non rispettasse questa deadline, l'ANAC può applicare delle sanzioni che vanno dei 10.000 euro in su. Che cosa vuol dire? Vuol dire che entro il 17-12 le società che hanno determinate caratteristiche devono avere questa piattaforma. Il numero di dipendenti però non è l'unico driver che obbliga le aziende. Infatti nel primo box vediamo che le società private hanno questo obbligo, perciò abbiamo detto dai 50 dipendenti in su. Per dipendenti definiamo tutte le persone a libro paga, perché non sono solo i dipendenti ma anche i lavoratori subordinati, gli stegisti, per farci un esempio. Perciò tutti coloro che sono al libro paga dell'azienda. In più ci sono altri due driver, che sono il box che vediamo, il secondo e il terzo box, che sono indipendenti dal numero di dipendenti. Scusate il gioco di parole. Per cui se anche un'azienda che è in settori specifici, appalti, ambiente, salute pubblica, privacy, sicurezza delle reti e dei sistemi informatici, perciò l'attività che svolge l'azienda è in questa casistica. Oppure le società che hanno adottato un modello organizzativo 2-3-1 devono adeguarsi anche se hanno meno di 50 dipendenti. Perciò, riassumendo, hanno l'obbligo entro 17-12 le società che hanno più di 50 dipendenti, di 50 persone a libro paga, oppure le società che rientrano in dei settori specifici o che hanno un modello organizzativo 2-3-1 indipendentemente dal numero delle persone a libro paga. Questa piattaforma è una piattaforma innanzitutto online, web. Di conseguenza non c'è nulla da installare, né lato azienda né lato persona che vuole fare una segnalazione. La di solito ci sono privacy e cookies. La best practice è quella di inserire la parola whistleblowing e al click vi porta alla nostra piattaforma. Perciò, da un punto di vista di gestione, è veramente molto semplice. Perché? Perché in realtà, rispetto ad esempio a chi aveva un modello l'organizzativo 2-3-1, adesso chiunque che sia venuto a conoscenza di una volazione nell'ambito lavorativo può fare una segnalazione. Questo implica che questo link non può essere solo ad esempio all'interno del portale dedicato ai dipendenti, perché anche lavoratori subordinati, fornitori, professionisti, consulenti, volontari tirocinanti, clienti stessi, azionisti, devono avere l'opportunità di poter fare una segnalazione. Ecco perché la best practice è quella di metterlo in un luogo accessibile a chiunque e perciò il sito internet, diciamo, è la soluzione in questo momento migliore. Che cosa si può segnalare? In realtà il sistema accetta qualsiasi tipo di segnalazione. Questo perché? Perché è vero che da un punto di vista legislativo si dovrebbe solo segnalare illeciti, che essi siano amministrativi, contabili, civili o penali, oppure delle condotte illecide ai sensi del decreto, del modello organizzativo 2-3-1, delle violazioni, oppure degli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione. Però è anche vero che questa norma nasce con la volontà non di una caccia, definiamola, alle streghe, ma quella di aiutare l'azienda a prevenire degli illeciti e perciò che sicuramente costerebbero decisamente molto di più all'azienda. Pensate a un illecito di carattere penale che poi deve andare in sede giudiziaria. Perciò, oltre al costo di avvocati e consulenti varie, ma anche il danno reputazionale che l'azienda può avere. Questo, grazie a questa piattaforma, grazie a questo whistleblowing, a questa norma che è entrata, permette di prevenire, perché una persona può inserire una segnalazione che in questo momento non è ancora un illecito, ma che lo potrebbe diventare. Questo fa sì che l'azienda, grazie a questa segnalazione, gli permetta di prevenire prima che il danno sia superiore. Perciò è vero che le persone potrebbero segnalare solo degli illeciti, ma è anche vero che ogni azienda, grazie a queste segnalazioni, potrà in qualche modo valutare se in qualche modo rispondere dicendo ringrazio per la segnalazione ma non rientri negli illeciti, oppure dar corso anche se esso non è un illecito. Il processo, abbiamo schematizzato un po' il processo che il legislatore ci richiede e in questo processo vi farò vedere come la maggior parte di questi punti viene automatizzato dalla piattaforma. Questo proprio per aiutare anche le aziende nella gestione di questi illeciti, cercando di scaricarli da tutta l'attività possibile che esso ne conviene. Il processo ci impone al punto uno che le aziende che abbiamo visto prima con quelle caratteristiche istituiscano dei canali di segnalazione che garantiscono la riservatezza, la riservatezza della persona che vuol fare la segnalazione e della segnalazione stessa. Questa parola riservatezza ce la porteremo avanti moltissimo perché quello che il legislatore ci chiede è la riservatezza sia della persona che fa la segnalazione sia del fatto segnalante perché non deve essere poi oggetto di in qualche modo di definiamola semplicemente anche solo mobbing per poterlo per poter avere fatto questa segnalazione e perciò la riservatezza è un elemento centrale. Ad esempio non sarebbe possibile gestirlo attraverso l'invio di una mail perché l'invio di una mail predispone che in qualche modo venga svelato il nome e cognome della persona ed ecco perché la piattaforma garantisce proprio questa riservatezza e dopo vi farò vedere come. Perciò il punto uno, l'istituire il canale di segnalazione viene assolto completamente con la piattaforma che vi sto presentando. Il punto due, l'azienda deve individuare una persona al suo interno o un ufficio autonomo che potrebbe essere uno studio di consulenti di lavoro, avvocato, che gestisca queste segnalazioni. È naturale che anche nel caso in cui si predispostiga un ufficio autonomo avremmo comunque, avrete comunque bisogno di una persona di riferimento all'interno che poi in qualche modo sviluppi la pratica per andare a risolvere tra virgolette il caso perché bisogna indagare sul caso. E perciò sul punto due è l'azienda che deve scegliere delle persone di cui ha estrema fiducia perché gestiscano queste segnalazioni. Il punto tre bisogna consentire al whistleblower, perciò una persona che vuole fare la segnalazione, di effettuare segnalazioni scritte e orali e come vedrete la piattaforma fa questo, perciò anche il punto tre viene assolto completamente dalla piattaforma. Il punto quattro ci dice che l'azienda deve in qualche modo confermare di aver ricevuto la segnalazione entro sette giorni. Anche questo punto quattro viene completamente assolto dalla piattaforma, di conseguenza dopo vi farò vedere, ma l'azienda non deve fare niente perché è la piattaforma che dà un'automatica conferma di ricezione. Il punto cinque prevede che l'azienda a questo punto deve prendere in carico la segnalazione e deve fornire un riscontro alla persona che ci ha fatto la segnalazione entro tre mesi. Il legislatore non ci dice che tipo di riscontro, di conseguenza non ci dà delle indicazioni su come dobbiamo rispondere, però abbiamo la necessità di rispondere entro tre mesi. È naturale che se ad esempio si decide di dar corso a delle vie legali in tre mesi non potremmo avere la risoluzione del caso, perciò una delle risposte potrebbe anche essere la ringrazio per la segnalazione, procederemo per le vie legali. E questo naturalmente è il compito dell'azienda, ma vedrete come la piattaforma vi aiuterà tramite delle notifiche a, oltre a tenere traccia, anche a aiutarvi nella calendarizzazione delle attività da fare. L'ultimo punto è che il legislatore ci dice che noi dobbiamo tenere traccia di tutto quello che facciamo, vedrete come la piattaforma ha una forma di diario virtuale dove potete segnarvi le cose e bisogna archiviare le segnalazioni e i follow up e poi devono essere, dopo cinque anni, l'azienda può in qualche modo cancellare queste segnalazioni, l'archiviazione per cinque anni. Anche questo viene completamente fatto dalla piattaforma anche la parte poi di cancellazione senza che voi dovete fare assolutamente nulla. L'ultima slide, giusto quattro o cinque caratteristiche, poi entriamo nel dettaglio. Innanzitutto, come vi dicevo, è interamente gestibile da un'interfaccia web, perciò non c'è niente che dovete installare se non mettere questo famoso link che vi dicevo prima sul sito. Questo vuol dire che è anche accessibile da mobile e perciò sia la tua azienda sia la tua whistleblower può assolutamente fare la segnalazione collegandosi a un qualsiasi sito internet, come diciamo in qualche modo siamo abituati. Il supporto supporta più di 90 lingue, il sistema viene fornito nativo in italiano e in inglese, ma se per delle necessità si avesse bisogno del russo, basta semplicemente farci avere la traduzione che viene caricata. Il look and feel è personalizzabile, nel senso che abbiamo la possibilità di mettere il vostro logo e i vostri colori aziendali e permette sia lo scambio di file multimediale, le famose prove, sia di avere una chat con il whistleblower, perché ricordiamoci che il whistleblower noi non sappiamo chi è, lui non si deve registrare, di conseguenza per noi è un utente qualsiasi, ma poi abbiamo la necessità non solo di rispondere, ma magari di avere maggiori, di chiedergli maggiori informazioni e all'interno della piattaforma questa cosa può essere completamente gestibile. Passerei a questo punto a farvi vedere la piattaforma che è il modo migliore per farvi capire la funzionalità. Ricondivido lo schermo. Ok, perfetto, credo che si veda. Abbiamo detto che immaginiamoci, mettiamoci la giacca della persona che vuole fare la segnalazione. Andrà sul vostro sito internet, clicca alla parola whistleblower, whistleblowing e si ritrova in questo portale. Questo portale avrà la possibilità, come vi dicevo, di avere in alto il vostro logo ed eventualmente essere personalizzato con i vostri loghi aziendali, con i vostri colori aziendali. Ci troviamo una welcome page. Questa welcome page ci dà, oltre il benvenuto, ci dà tutta una serie di informazioni per capire che cosa dobbiamo fare, ma specialmente per rendere in qualche modo più consapevole la persona che ci sta facendo la segnalazione, perché come potete vedere in ultima domanda, una delle ultime informazioni che diamo è quali responsabilità ti assumi in caso di segnalazione illecita. Qui troviamo la possibilità di inviare una nuova segnalazione, recuperare la nuova segnalazione e inserire la vostra informativa privacy. Infiamo una nuova segnalazione. Clicco il bottone. In questo caso mi chiede per prima cosa se voglio lasciare una segnalazione per orale o per iscritto. Nel processo, non so se vi ricordavate, avevamo il punto 3, il fatto che il whistleblower deve poter fare una segnalazione sia per orale che per iscritto. Nel caso dell'orale, vado avanti, come vedete qua ho un piccolo microfonino. Cliccando il microfonino io posso registrare un audiomessaggio, un po' come siamo abituati con WhatsApp. La particolarità è che la voce è distorta. Perché? Perché ritroviamo il concetto della riservatezza. Se ad esempio tra i vostri dipendenti, i vostri fornitori, avreste una persona magari con un forte accento latino, ad esempio, in qualche modo voi potreste immediatamente scoprire di chi sta parlando. Invece, proprio con la voce distorta, questi elementi verrebbero meno. Nel caso io volessi fare, clicco l'audio, faccio la mia registrazione, vado su successivo e avrò la thank you page che mi dice che la registrazione è andata a buon fine. Ve la faccio vedere questo processo, ve lo faccio vedere nella parte per iscritto, che probabilmente ci aspettiamo la maggior parte delle segnalazioni verranno per iscritto. A questo punto vado su successivo. Mi chiede se voglio fornire i miei dati identificativi. Perché? Perché il legislatore ci parla di riservatezza, ma non ci parla di anonimato. Questo vuol dire che una persona, se vuole, può lasciare i suoi dati. Ma se lui non volesse, vado, scricco il no e vado avanti e vado su successivo. Qui entriamo nel cuore della segnalazione, in cui mi chiedono di descrivere la segnalazione in poche parole, di descriverla nel dettaglio, dove sono avvenuti i fatti e quando sono avvenuti i fatti e come sei coinvolto nel fatto segnalato. Come vedete ci sono cinque possibilità. Questo permette anche all'azienda, in qualche modo, di dare al suo interno una priorità, perché naturalmente verrà considerato più urgente, definiamolo, essere una segnalazione dove sono una vittima, piuttosto che l'ultimo grado per cui è una voce che ho sentito in giro. Se ho delle prove a supporto della messina negli azioni, se clicco di sì, mi permette di caricare un qualsiasi file, non ho limiti, che sia un jpeg, un pdf, il sistema accetta qualsiasi tipo di file e di descrivere le prove nel dettaglio. Se invece noi non abbiamo delle prove, clicchiamo no e come vedete non mi chiede delle altre informazioni se non se ho già segnalato i fatti ad altre organizzazioni. In questo caso mi chiede quali organizzazioni e come esse hanno poi investigato. Se invece io rispondo di no, arriviamo all'ultima domanda. Qual è il risultato che vorreste ottenere con il nostro supporto? Questa domanda è una domanda molto importante sia da un punto di vista del whistleblower, perché lo responsabilizza ancora di più pensando a che cosa si aspetta con questa segnalazione, sia da un punto di vista dell'azienda, perché ci dà una guida su come dobbiamo investigare. Io compilo i campi, vedete che tutti i campi hanno l'asterischino, di conseguenza sono obbligatori, l'utente più di tanto non si può perdere. Mi chiede ancora se ho per caso delle altre documenti a supporto, perché magari nel primo momento ho detto di no, ma magari ne ho ancora altri, però se non ne ho posso andare avanti. L'informativa della privacy vostra dove c'è presa visione e clicco invio. Cliccando l'invio vedrete che abbiamo una thank you page. La thank you page che ci dice che la segnalazione è andata a buon fine. Se vi ricordate nel nostro percorso che abbiamo visto prima, c'era un punto in cui ci diceva che l'azienda deve, entro sette giorni, dare conferma della ricezione e questo in realtà è avvenuto automaticamente con la piattaforma. L'azienda non deve fare niente. La persona, il whistleblower che fa la segnalazione, come vi dicevo, per noi se non lascia i dati identificativi è un utente qualunque, di conseguenza non abbiamo modo, non è che sia logato con una user e una password per riaccedere. L'unico metodo che ha per la segnalazione, per recuperarla, è questo di questa ricevuta che vedete. È il meccanismo che noi abbiamo definito guardaroba e vuol dire quando voi andate a teatro lasciate la vostra giacca, vi danno un tagliandino con il numero. Se volete in qualche modo riprendere la giacca, a questo punto ridate il tagliandino. Se perdete il tagliandino, la giacca non ve la ridanno più. Esattamente la stessa tipologia. Perciò noi abbiamo questo codice che è compito del whistleblower di tenerlo, perché in qualche modo è lui che ha fatto la segnalazione e è lui che sarà interessato a vedere come procede la segnalazione. Nel caso in cui lo perda, non potrà più accedere alla segnalazione e dovrà fare una nuova segnalazione. Io mi memorizzo nei miei appunti il mio codice ed esco dalla piattaforma, perché ho fatto tutto quello che dovevo fare. La mia segnalazione è andata a buon file. Facciamo l'esempio che passa una settimana. Passa una settimana in cui io voglio vedere come sta andando la mia segnalazione. Vado qui sotto nel portale, rincollo il nostro fantastico codice e riaccedo, vedete, alla nostra segnalazione. La nostra segnalazione è dove ho una serie di informazioni, la data, l'ultimo aggiornamento, la scadenza. Per scadenza si intende la scadenza dell'archiviazione, perciò i famosi 5 anni, e lo stato nuovo. Nuovo vuol dire che è stato caricato, ma l'azienda non l'ha preso, non l'ha ancora preso in carico. Dopo, quando ci metteremo la giacca dell'azienda, vi farò vedere come cambiare questo stato. Ci ritroviamo le nostre risposte al questionario che abbiamo dato prima. Ci ritroviamo gli eventuali allegati che ho inserito, altrimenti ho sempre la possibilità di caricarne di nuovo. E arriviamo alla sezione dei commenti, la famosa chat. Questo è l'unica zona che mi permette di interloquire con l'azienda e l'azienda con me per scambi di informazioni o maggiori informazioni. Per cui, magari, le informazioni che ci ha dato a supporto non riusciamo a scoprire maggiori informazioni solo con questo che ci ha dato lui, e perciò abbiamo la necessità che lui ci fornisca maggiori informazioni, oppure abbiamo la necessità di chiedergli di svelarsi, per chiedergli, ad esempio, un appuntamento privato per indagare meglio. In questo caso io scrivo ciao, grazie, invio la mia segnalazione e come vedete ho lasciato la mia segnalazione. Perciò lato whistleblower vi ho fatto vedere tutto, nel senso che abbiamo fatto una segnalazione ex novo e l'abbiamo recuperata. Ci cambiamo giacca, ci cambiamo giacca e entriamo nella parte aziendale. La parte aziendale vi daremo anche qua una user e una password dove potrete accedere, sempre un sistema web, non c'è assolutamente nulla da fare, dove abbiamo le nostre segnalazioni. Come vedete, andando su segnalazioni, io ho una dashboard che mi dà subito un overview della situazione che ho. Nel nostro caso noi abbiamo appena caricato, come vedete, oltre a essere in bold e anche segnato nuovo, questa segnalazione. Qui ci sono una serie di strumenti, che dopo vi farò vedere, che vi permetteranno di filtrare e di organizzare le vostre segnalazioni. Abbiamo lo stato che è nuovo, abbiamo la data della segnalazione e l'ultimo aggiornamento, perché se vi ricordate abbiamo appena scritto un messaggino. Questo messaggino ce lo segnala qui e inoltre ci segnala che è stata inviata una mail, perché per ogni segnalazione il sistema manda automaticamente una mail ai riceventi, l'azienda, dicendo hai ricevuto una nuova segnalazione. Questo per far sì che non dovete accedere tutti i giorni alla segnalazione, ma grazie al sistema delle notifiche vi avvisa lui quando ci sono in qualche modo delle novità. Clicchiamo sulla nostra segnalazione, quella che abbiamo appena ricevuto e come vedete io mi ritrovo tutta una serie di informazioni che sono sempre le stesse, la data, l'aggiornamento, la scadenza e in più ho la data del promemoria, perché mi permette, grazie a questa funzione qua sopra che vedete imposta un promemoria, di impostarmi dei promemori e delle attività proprio per scadenziarmi quello che io devo fare e di conseguenza un esempio è mi posso mandare un promemoria per dirmi fra una settimana devo contattare l'ufficio HR, questo per aiutarvi nella piattaforma. Inoltre possiamo segnarla come importante, di conseguenza nella dashboard potrete poi filtrare per tutti quelli che hanno delle stelline, disabilitare le mail di notifica, perché noi consigliamo sempre di avere almeno due riceventi, questo per un discorso sia di eventuali malattie, ferie, impossibilità, sia anche per un discorso di password, se uno perde la password l'altra persona lo può cedere, questo cosa vuol dire? Vuol dire che magari all'interno dell'azienda si decidono per due persone che gestiscono e a quel punto uno si può anche organizzare e dire senti io faccio quelle dispari, tu fai quelle pari e allora a questo punto se nel mio caso io non devo gestire questa segnalazione posso disabilitare le mail di notifica, perciò non mi arrivano le notifiche di quella segnalazione perché in qualche modo non me ne occupo io. Qua possiamo posticipare la data di scadenza che come vi dicevo il legislatore ci richiede l'archiviazione per cinque anni ma se l'azienda volesse in qualche modo tenerla di più qua ha questa possibilità ed è infinita e poi abbiamo la stampa e lo scarica. Stampa e lo scarica sono due funzioni che abbiamo inserito su richiesta di alcuni nostri clienti ma ci teniamo a dire che utilizzando queste due funzioni uscite dalla piattaforma e da quel concetto di riservatezza. Perché? Perché io stampo le segnalazioni, li metto nel mio bel faldone che lo metto dentro l'ufficio dell'amministratore, dell'amministrazione, chiunque può accedere a quel faldone e capite che la riservatezza viene meglio. Così come lo scarica mi crea un file zip dove ho la mia segnalazione singola, un file di txt con i testo e eventuali allegati, io prendo questa mia bella cartellina, me la tengo sul computer e il mio computer è collegato a tutti gli altri computer e capite che la riservatezza viene meno. Perciò sono due funzioni ma che in qualche modo bisogna utilizzare con cautela. Ci ritroviamo sotto le risposte al questionario che avevamo appena dato, gli eventuali allegati e qui arriviamo all'altro cuore diciamo che noi abbiamo visto lato whistleblower. Perché? Perché la segnalazione deve essere in qualche modo sia gestita. Come facciamo a gestirla? Qua è il nostro diario virtuale perché attraverso questi tab, solo io, solo riceventi, se io clicco solo io, tutto quello che carico e tutti i commenti che io faccio li potrò vedere solo io. Questo mi permette di tenere traccia di delle mie investigazioni, delle mie pensieri, di quello che c'è da fare, ma lo potrò vedere solo io. Solo i riceventi vuol dire che non lo vedrò solamente io ma anche gli altri riceventi che l'azienda ha considerato, ha deciso di mettere in pratica per questa attività, oppure tutti. Tutti vuol dire che anche il whistleblower. Come vedete, infatti noi qua abbiamo la nostra chat che abbiamo scritto prima. Il sistema richiede, perché il legislatore ce lo richiede, di dare almeno una risposta, non ci indica che tipologia di risposta dare. Io nel mio caso scrivo ciao, grazie per la segnalazione, ma non è un illecito, ad esempio. Lo invio e come vedete ho inviato un messaggio che il whistleblower potrà vedere. Il whistleblower naturalmente non riceve nessuna notifica perché, ripeto, noi non sappiamo chi è il whistleblower e il suo compito è accertarci che, il suo compito, tra virgolette, è quello di andare a vedere com'è l'investigazione. A questo punto basta solo una risposta per cui io, ad aperto, posso metterlo in chiusa. Esiste anche, come vedete, la possibilità di in investigazione, questo a scelta vostra, ad esempio posso averla presa e poi spostarla in investigazione per nel momento in cui sto fisicamente facendo qualcosa. Il sistema, come vi dicevo, richiede almeno una risposta al whistleblower per poterlo chiudere. Noi, in questo caso, abbiamo chiuso il nostro caso, rientro, come vedete, nelle segnalazioni e come vedete la nostra segnalazione è chiusa e ci indica che abbiamo dato due risposte. Vi completo il giro, rientriamo sul portale come se fossimo il whistleblower, perciò io sono il whistleblower, vado a inserire il mio codicino, sempre lo stesso che mi ero copiata prima, riaccedo e come vedete lo stato è chiuso, anche per lui, e come vedete gli abbiamo dato una risposta. Tutto questo nella riservatezza che ci chiede il legislatore. L'azienda ha sempre l'opportunità di riaprire il caso, perché magari nel frattempo l'ha chiuso, ma poi ha scoperto delle nuove cose, mentre invece il whistleblower non ha la possibilità di riaprirlo e perciò, se in qualche modo non è stato soddisfatto, deve riaprire una nuova segnalazione. Io direi che ho fatto vedere tutta la piattaforma, andrei se volete all'ultimo pezzo della presentazione, che è il pricing, pricing dedicato per questo webinar, dove vi ricondivido lo schermo. Questa offerta che cosa prevede? Provede innanzitutto la possibilità di avere tutto quello che vi ho fatto vedere e potrebbe essere anche per gruppi aziendali, perciò nel caso in cui l'azienda abbia all'interno tante altre aziende, perciò una multiutenza. Istanza singola vuol dire che c'è un solo questionario, di conseguenza anche per i gruppi aziendali è come se fosse un collettore, abbiamo un'unica scatola, dove però il questionario è sempre lo stesso. Il loco personalizzato, i testi personalizzati in un page e anche il questionario personalizzato. Quello che vi abbiamo fatto vedere è la best practice, di conseguenza per nostra esperienza non c'è la necessità di aggiungere, ma nel caso in cui voi voleste aggiungere delle domande potete farlo. Il dominio, il dominio su cui verrà installato, diciamo che vi forniremo il link, è il nome della vostra azienda, appunto, wallbreakers.it. e la formazione online, una formazione che viene fatta online. E cosa succede? Abbiamo un'offerta da 72 euro al mese, con lo sconto dedicato, per le aziende fino a 99 dipendenti. In realtà per dipendenti parliamo di, come vi dicevo prima, di persone a libro paga. Poi abbiamo tra i 100 e 249 dipendenti si passa a 116 euro al mese e dai 200 dipendenti in su si parla di 188 euro al mese, più un costo di setup di 300 euro per azienda. Esistono anche dei servizi aggiuntivi su richiesta, perciò il servizio di intake delle segnalazioni, cioè se volete affidare alla nostra società il servizio di gestione delle segnalazioni, come però vi ricordavo c'è poi la necessità comunque di avere un referente interno, oppure tutta la documentazione di compliance informativa che necessita questa attività. In realtà l'unica necessità che abbiamo, lato nostro, è l'informativa della privacy che è da caricare, mentre invece l'azienda, per esempio, dovrà fare le nomine per le persone che deciderà di avere come segnalatori. Io ho fatto un semplicistico, tra virgolette, overview della situazione e a questo punto direi che rimaniamo a disposizione per tutte le domande che ci sono. C'è qualcuno che ha qualche domanda? Lo può scrivere in chat, così la leggiamo, magari diamo informazioni a tutti. Certo. Io intanto magari inizio a dire un paio di cose che sono le classiche domande che vengono fuori. Allora, il legislatore non ci impone della comunicazione, nel senso che una delle domande che viene fuori è ma come fanno a sapere le persone che io lo sovo in Boeing, in realtà si dà un po' per scontato che le aziende di un determinato tipologia e perciò con determinate caratteristiche lo abbiano. Perciò il legislatore non ci impone di comunicare l'esistenza di questa cosa. Naturalmente l'azienda può decidere assolutamente di farlo, e non è vietato. Vi faccio un esempio pratico. Se voi andate sul sito di Unicredit, in basso trovate whistleblowing, perciò loro ce l'hanno, ma credo che nessuno di noi abbia ricevuto l'informativa che Unicredit ha messo su whistleblowing. Perciò è facoltà dell'azienda decidere come comunicarlo. Penso che siano tutti assolutamente soddisfatti delle informazioni. Non è possibile! Non abbiamo ulteriori domande. Nel caso in cui vogliate aderire, magari se hai voglia di mettere in chat la mail, potete mandare una mail allo studio marino, e poi loro ci convoglieranno le vostre richieste, e ci sentiremo one to one per l'operatività. Vi segnalo che sono due settimane per il tempo di attivazione. Avremo bisogno naturalmente dei vostri dati aziendali per fare il contratto. Il contratto è un contratto triennale, con però la possibilità naturalmente di rescindere il contratto. Questo perché? Questo perché? Perché nel momento in cui voi decidiate di cambiare fornitore, voi vi dovrete scaricare in qualche modo le registrazioni che avete fatto, le segnalazioni che avete fatto. Non è detto che il nuovo sistema vi permetta di uploadarlo. Questo cosa vuol dire? Che vi trovereste con un pezzo da una parte e un pezzo dall'altra. Ecco perché noi facciamo dei contratti relativamente lunghi proprio per garantirvi la continuità, oltre al fatto che nel caso in cui ci fossero delle modifiche alla norma, non dovrete fare niente perché la piattaforma verrà integrata automaticamente su questi nuovi dispositivi. avremo poi bisogno del logo, dei vostri colori se volete, delle mail di riferimento e della privacy. Perciò pochissime documentazioni, come vi dicevo sono due settimane i tempi di setup. probabilmente sia stata chiarissima, non abbiamo altre domande. Anche il lato nostro noi siamo a disposizione, sia per chi è il nostro cliente contatti diretti, piuttosto che sulla mail che ho pubblicato in chat, che è direzionechiocciolastudiomarinosrl.it, la trovate anche sul nostro sito. sempre sul nostro sito trovate anche tutte le slide che ha pubblicato, che ha fatto vedere Valentina, quindi se vi siete persi qualcosa le potete trovare. Magari vi metto direttamente il link. Allora, una domanda ce l'abbiamo. Quindi non dobbiamo comunicare ai dipendenti che la ditta ha attivato il sistema di whistleblowing. E a scelta vostra, nel senso che il legislatore non ci obbliga la comunicazione. Se poi volete farlo, nessuno ve lo vieta, ecco. Diciamo che si dà per scontato che in tale data le ditta che abbiano quelle caratteristiche, ce l'abbiano, ecco. E nel caso in cui l'ultimo pezzo, la ditta rientra nelle casistiche e non ce l'abbiano, le persone che vogliono fare una segnalazione a quel punto potrebbero fare escalation e andare direttamente a segnalare all'ANAC che la vostra ditta non ce l'ha. E questo è il famoso pezzo della slide che dicevo che l'ANAC a quel punto può dare delle sanzioni che partono da 10.000 euro. Allora, un'altra domanda è anche quando esiste l'RSU interna non occorre segnalazione. Io chiedo scusa che non ho idea di che cosa... Le rappresentanze sindacali. Ah, ok. Anche quando esiste non occorre segnalazione. Credo di non aver capito la domanda. Nel senso che il canale di segnalazione whistleblower, i driver sono il numero di dipendenti oppure le casistiche, quelle che abbiamo visto. Perciò o sopra i 50 dipendenti o altrimenti se si rientra in quei settori che abbiamo avuto oppure il modello organizzativo. Queste sono le uniche driver. Di conseguenza, anche se esiste una rappresentazione sindacale interna, l'azienda deve comunque aderire e avere questa segnalazione. Proprio perché i driver sono indipendenti dalle caratteristiche dell'azienda ma sono questi tre che, ripetiamo, sopra i 50 dipendenti e per dipendenti si intende anche lavoratori somministrati, tutte le persone che sono a libro paga. La faccio più facile parlando così. Oppure i settori specifici che abbiamo visto. Oppure il modello organizzativo. Aderire per segnalarlo ai dipendenti con apposita convocazione RSU. Ripeto, il legislatore non ci dice come dobbiamo. Il legislatore ci impone di averlo. Poi, come voi volete veicolarlo ai vostri dipendenti, è scelta vostra. Noi abbiamo avuto aziende che non hanno comunicato nulla e delle aziende che invece hanno fatto una mail. Chi ha messo l'annuncio in bacheca, in mensa, nel senso che ogni azienda a quel punto può essere libera di comunicare come ha messo questa cosa qua. Ricordandoci che però non è solo per i dipendenti. Di conseguenza, ricordiamoci che la piattaforma deve essere accessibile a tutti. Ecco perché la best practice è quello di mettere sul sito internet deve essere accessibile a tutti perché anche i fornitori devono poterlo fare. Diciamo che conoscendo le rappresentanze sindacali sicuramente per dargli anche tranquillità a loro è bene comunicarglielo così loro che lo ritengono opportuno possono fare tutte le segnalazioni che ritengono i dipendenti appunto di modo che soprattutto se l'azienda è un po' di più grandi dimensioni siano tranquilli ecco da questo lato e non non abbiano magari l'input per avere qualche problema da segnalare. Sanno che è tutto in regola ed è tutto a posto. Magari una comunicazione in questo caso qua se sono particolarmente attivi ecco particolarmente precisi sulla normativa ebbene dirglielo ma semplicemente per non avere magari poi problemi successivi ecco nel momento comunque in cui lo fate siete a posto perciò ok allora intanto ho messo il link anche del nostro sito così potete scaricare direttamente le news tra cui tutto questo quello che ha presentato Valentina sempre sul sito se doveste perdere l'indirizzo potete contattarci tramite il link diretto se non c'è nient'altro direi che possiamo lasciarvi andare in tranquillità direi che sono tutti soddisfatti va bene siamo tutti a disposizione se avete bisogno di qualsiasi informazione potete contattarci anche telefonicamente sul sito trovate tutti i riferimenti vi saluto e vi ringrazio per la partecipazione grazie Valentina per grazie grazie a voi per grazie a voi per per l'ospitalità e grazie a tutti allora buona giornata buona giornata grazie grazie